1,2,3 e 4 Estrattore Apposto, adesso esplode Ah! No, ok Non ricordo che cosa Ah, il maceratore Il maceratore che si fa però Ce l'abbiamo la ghiaia? Si ce l'abbiamo Ma non abbiamo la selce No minchia, la selce ce l'abbiamo Oh la madonna se ce l'abbiamo Allora se riusciamo facciamo Almeno, almeno, almeno Un pannello solare Almeno, almeno Allora un altro generatore Medenne E due elettronic circuit No, non ce la facciamo Non abbiamo abbastanza copper Allora sai che vi Sapete che vi dico Io farei un bel giro Nella caverna Spero che l'Ikan ci segue Ma non credo Provato ma Non credo che ci segue Tra l'altro è bloccato lì Perché è bloccato lì? Ikan? Tutto a posto? Aspetta un po' Ah si tutto a posto Ok Non mi preoccupare piccolino Ok 3, 2, 1 Oddio Eh stavolta Primo colpo C'è entrato Ah Eccoci qua Allora Dobbiamo trovare il copper Sì sarete Magari fin stupi Fin stufi di vedere sta Sta caverna Però Ah ecco qua Beh il co Minchia quanto Ottimo 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 Ossidiana Dove è il portal? Madonna Ok però se Ripercorriamo Le strade all'indietro Diamante A caso? E c'è una Tor Ragazzi Ma che cazzo Aspetta C'è qualcosa Che non può Adesso Perché Perché c'è una Torcia Dove ci sono Proprio Dei diamanti È l'unica Torcia Che c'è Perché? Là ci sono le mie Quindi l'ho esplorata Questa zona Com'è possibile? Altre Ma Vabbè Io li prendo Cioè Male non fanno Per carità Quattro diamanti Oh altri qua Non li ho visti Pensavo fosse Oddio quanti Oh è la madonna Ma c'è una C'è una venatura Completa John Enderman Quasi quasi Anche con l'Enderman Qualcosa Che cazzo sei tu? Vabbè ho capito Ok Non so che cosa Cos'è un fantasma Cazzo Comunque Mi ho trovato Due spade Due spade in ferro Complete Oh mio dio Ragazzi Ma qua si farma Allora Enderman Parti chiare Amicizia corta Adesso io ti uccido E' stato più facile Del previsto Mamma mia Mi ha tratto cosa Tutta la vita Capito Se il mio personaggio Mangia Grazie Diamante Altro diamante Cazzo Madò che culo Ok Basta così Andato un po' qui Basta così Rientriamo Voilà Apostico No dai Ma porca puttana Ma che succede? Metà dei Ma scusa Ma come fanno A esserci dei mob dentro? Scusa Cioè dentro a casa mia Ci sono dei mob Che tra l'altro Non vedo ancora Aspetta un secondo Ancora Aspettate Che magari ho capito Che cos'è Ma che sta succedendo? Ok Provare a rientrare E uscire Oh Oddio Raga Non li vedo Ragazzi non li vedo Non li vedo Non li vedo Ma che cazzo succede? E tra l'altro Dov'è la icon? Scusa Ragazzi Non è normale Sto cosa qua Ragazzi Che cazzo succede? No raga Ma io non li vedo Non li vedo Ragazzi Non è possibile Una cosa del genere Non è possibile Che paura Porca puttana Ragazzi Ragazzi Che cazzo Cioè ma Ma stiamo scherzando Ok Via tutti Ok Sembra che Non ci sia Più nessuno Che paura Che paura però Ok Svotiamoci Allora Rezzo L'abbiamo preso Un pochettino Poi Ok Ok No raga C'è qualcosa Che non va Io qua avevo messo a fare Allora O qualcosa Mi sta prendendo Per il culo Tantissimo Aspetta 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 Ah no Ok Minchia Che culo Allora Qua Vabbè qua non c'era niente Vabbè Ma qua c'erano le cose Che stavo estraendo E qua c'era il carbone Ma che cazzo Allora A parte che Io devo fare altri Tank XP A parte quello Però che cazzo Fatemi riacquistare un attimo La lucidità Visto che non ci sto capendo un cazzo Niente Allora Dalla prossima Dalla prossima volta Faremo tutto qua Farò Con tutto il ferro che abbiamo raccolto Possiamo fare un'intera struttura Di ferro Però Sarebbe uno spreco Non so Ah è uscito Ragazzi C'è C'erano qua dentro delle cose Sono sicuro 100% C'erano Tipo Una trentina di Di resina Vabbè Proviamo a fare questi overclocker Che sono Sono abbastanza facili da fare Vabbè 14 va bene Poi la gomma ce l'abbiamo Quindi volendo possiamo fare così Boom Due iron plate Bam Bam Ok Li lascerei anche qui Due di redstone No Quattro di redstone Questo che dobbiamo farne due Voilà Ma che bellini Guarda Ma che carini qua così Bellissimi che ti dice La ricetta che c'è sopra Bellissimo Anche comodo Eeeh Tre secchi d'acqua Minchia Quanto ferro C'è sta roba qua Garlic Wow Quante cose che si fa Che paura Porca puttana Oh questo Mi sono cagato sotto Ecco qua Per trappole Ma va a fare un culo C'è Allora Uno Due E tre Liscio Chiunque sia stato L'ora Ehm Sì Devo far così Due Bene Ok Poi Servono Cos'è che servivano I 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 Ma io ho capito Ma io devo Devo mettere tutto a casa Di Di liquid tank Scusa Allora 12 plate Minchia Si è consumato subito Quindi Uno due tre Uno due tre Uno due tre E tre Bam No Bene A posto Porca puttana Non è con l'acqua Universal fuel cell IC2 Oh cazzo Ah è con questo Ah Minchia Più complicato Di quanto Pensassi Orca miseria Scusa cosa cambia Se ne metto Uno Eh Otto se ne metto Uno Ah perché Questa è acqua distillata Se è acqua normale E allora Non poteva dirmelo subito Mmm Problema Ah Ma non è neanche Tanto difficile da fare Scusa Allora lo faccio subito Allora Tanto mi si Mi si è rotta ancora l'armatura Ma che due coglioni Io non ci posso credere Si è rotto il cappellino Che palle Allora Oddio Che Scusami Che è sta co Mannaggia Grazie per l'esperienza Ehi Ehi Sento le scale Pronto Porca puttana Ragazzi 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 Dove sta adesso Oh Ragazzi c'è qualcosa qua Che paura Porca puttana Porca puttana Che cagotto Affan Allora Vorrei dire Naggia Mi c'è neanche contro il colpo Sto coso qua Culo C'ho paura Adesso non posso neanche Chi è Cavernic Scusami Ok Mo' sono un po' troppi Ragazzi No sta succedendo qualcosa Sta succedendo qualcosa di brutto Ok Sapete cosa Vorrei fare qualcosa Ma non so se si può Vabbè Allora Lingotti di sta roba qua Allora Io direi di fare questo Fluid solid Eccolo qua Che non è neanche Non è un cazzo difficile Non è per niente difficile Ok Uno E uno due Ok Ok Non pensavo di raccogliere così tanta esperienza Onestamente Non pensavo neanche di raccogliere così tanta Figa Questi saranno 50 livelli Sta roba qua No Neanche Forse 40 Che ne so Ok Ok allora Questi li abbiamo fatti Food solid Poi machine block Che ho fatto Teamplate No ragazzi mi sa che ho sbagliato Ah no Teamplate Quindi Sono 7 Sono 7 1 2 E vabbè 7 Vabbè pazienza Poi No Prima machine block Prima machine block Madonna ragazzi C'ho Entrima tutto Eh mi sa che si rompe No Fortuna Ok machine block Allora Facciamo così Così Poi così Poi così Ah Molto facile Però Io non lo metterei giù adesso Perché non abbiamo né corrente né niente Quindi Niente Allora faremo tutto nel prossimo episodio Io poi creerò una struttura là Ma anche un po' bellina Un po' più bella di questa Perché questa qua La voglio cambiare Off camera Mi metterò a sostituire tutto E la faremo più alta Quindi Vabbè ragazzi Con questo episodio è tutto Se vi è piaciuto il video Come se ti lasciate un mi piace Madonna sto Sto sfarfallando Tra l'altro la icon non si è fatto vedere Cazzo dovrebbe essere il cane che dovrebbe proteggere la mia casa L'ho preso apposta Vabbè Ehm 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 Vabbè ragazzi Con questo episodio è tutto Se vi è piaciuto il video Come se ti lasciate un mi piace Anche la pagina di facebook Come sempre ricordo nella descrizione Vi ricordo sempre di seguirmi in live Ehm Tutte le sere E di iscrivervi al canale di telegram Vabbè Il canale di twitch è sotto nella descrizione il mio Ehm Niente Noi ci vediamo con il prossimo video E porca puttana È successo di tutto Successo di tutto Tra zone invisibili Il cane che sparisce Come sempre tra l'altro E chi Chi è che cazzo Ci ha lasciato sto cartello E ha appeso Tra Non lo so Non lo so ragazzi Vabbè Fatemi sapere cosa ne pensate Ehm Io aspetto i vostri commenti Hai lupacchiotti Woohoo No 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 no